Porta ancora addosso i segni di quegli anni, una forma tumorale dovuta anche alla differenza termica dai 50 sotto zero della Siberia ai 40 del Turkistan. Lucido, parlerebbe per settimane. Ricorda bene il momento della ritirata. Una sera dentro al campo, dice, c'è da andare a fare il pane, era da sera. Beh, tutti correva, tutti avevano il pane, invece era una boiata. Io non ci sono andato, è stata la fortuna mia. E' morto più quelli, è stato a scaricare i morti dentro i vagoni. Una trappola. Una trappola. E avevate tanta fame che avete mangiato un cavallo? La fame c'era, non è che stavi a guardare, c'è quello, c'è quello, c'è quello, c'è quello. Quello che c'era rubaccia. Come lo tagliavate? Così, non la metto da barba. Nel viaggio di ritorno nel 1945, quanto è durato? E' durato, in tutto, 42 giorni. 42 giorni di treno? Non finiva mai? Lo fermava, c'era da mangiare, c'era un figlio che era lungo la storia. Ho pregato, viva fratello. E dopo già è stato tutto, ho sempre richiamato, viva fratello.